Musica Sciocca l'istituto Olivetti di Fano, 14enne, chiede di andare in bagno, si accascia e muore Soccorso dai docenti dal 118, purtroppo non c'è stato nulla da fare Scontro in regione tra il consigliere Minardi e l'assessore Salta Martini sulla chiusura estiva delle sale operatorie al Santa Croce Nel pomeriggio arriva la replica del direttore dell'ASD che, dati alla mano, smentisce la chiusura Referendum cittadinanza, c'è tempo fino al 30 settembre per sottoscrivere il quesito Servono almeno 500.000 firme L'obiettivo? Ridurre dai 10 ai 5 gli anni di residenza legale per presentare la domanda di cittadinanza italiana 250 anni della Guardia di Finanza Venerdì il concerto della Banda del Corpo all'Auditorium Scavolini di Pesaro A Centinarola di Fano inaugurata la nuova sede dell'Associazione di Quartiere Verranno organizzati corsi, giochi e laboratori per grandi e piccoli Benvenuti ad occhio alla notizia edizione di martedì 24 settembre Tragedia questa mattina all'Istituto Olivetti di Fano dove un 14enne è morto dopo aver accusato un malore Il giovane che soffriva di patologie cardiache era uscito dall'aula per recarsi in bagno E a rientro si è casciato a terra privo di sensi Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo Sentiamo allora la ricostruzione di Massimo Foghetti Una tragedia si è verificata questa mattina qui all'Olivetti in Via Nolfi in pieno centro storico a Fano Era la seconda ora di scuola, stava per iniziare Un adolescente si è sentito male, è caduto a terra con un tonfo esanime purtroppo ed è deceduto all'istante Si tratta di Tommaso Biciari che frequentava il corso di gestione ambientale e risanamento delle acque Un corso nuovo che l'Istituto Olivetti ha attivato da due anni Ebbene sono state inutile purtroppo tutte le manovre, tutte le operazioni di soccorso Che sono state immediatamente eseguite, massaggi cardiaco, l'uso del defibrillatore Gli insegnanti si sono precipitati sul ragazzo per cercare di rianimarlo Soprattutto il professore di ginnastica che era lì nei pressi e che passava Il tutto è avvenuto nel laboratorio di informatica Il professore Lucarelli che è appunto l'insegnante di ginnastica ha fatto il possibile per rianimarlo Purtroppo non c'è stato nulla da fare È stato avvertito subito il 118, sono arrivati i soccorritori, gli operatori Hanno praticato anche loro tutte le operazioni necessarie Ma purtroppo il ragazzo è deceduto e non c'è stato nulla da fare Sono stati avvertiti subito anche i genitori La mamma era qui vicino, è una dipendente dell'amministrazione comunale Lavora all'assessorato alla cultura in via De Cupis, circa 200 metri da dove è avvenuto il fatto Il padre lavora a Pesaro, ma oggi essendo Pesaro una giornata di festa E Sant'Erenzio infatti si trovava appunto nella nostra città Entrambi sono subito arrivati e sono poi entrati nell'ambulanza insieme al bambino Per portarlo all'ospedale Santa Croce, ma purtroppo abbiamo detto non c'era nulla da fare Grande costennazione per tutti i ragazzi che hanno avvertito quello che stava accadendo Molti si sono commossi, altri hanno pianto Insomma è stata veramente una giornata terribile per tutti i ragazzi che frequentano l'Olivetti per quanto accaduto E sono stati centinaia in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social Oggi, ha scritto il sindaco Serfilippi sul suo profilo ufficiale È una giornata di grande dolore per la nostra comunità Ho appreso con immenso dispiacere della tragica scomparsa di un ragazzo di soli 14 anni Figlio di una nostra dipendente comunale Il mio pensiero va alla sua famiglia a cui voglio esprimere la mia più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore E continuiamo con la cronaca Una ciclista ucraina di 59 anni è rimasta ferita in un incidente accaduto questa mattina in Via Roma a Fano Secondo, una prima ricostruzione della dinamica Un'auto condotta da una donna albanese di 52 anni Stava provenendo da Via Togliati e nell'immettersi su Via Roma È entrata in collisione con la ciclista che stava percorrendo la pista ciclabile verso mare Quest'ultima, che cadendo a terra ha riportato lesioni È stata trasportata in codice verde al pronto soccorso Sul posto il 118 e la polizia locale È sempre in Via Roma, ma all'altezza dell'ex seminario Si è verificato un altro incidente Oggi pomeriggio A scontrarsi intorno alle 17 e 20 sono stati un'auto e uno scooter Ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote Soccorsa dai sanitari del 118 Ed ora passiamo alla sanità Questa mattina nel Consiglio regionale si è tornati a discutere nuovamente Sulla chiusura estiva delle sale operatorie al Santa Croce di Fano Resto estere fatto, ha commentato il consigliere Minardi Di fronte alle parole dell'assessore Salta Martini Che ha liquidato con un non corrispondente al vero La mia denuncia sui disservizi patiti dai cittadini fanesi Durante il periodo estivo c'è stata una notevole riduzione Delle sedute e delle sale operatorie Con soprattutto le donne con tumori al seno Che hanno dovuto attendere E quindi con meno interventi che sono stati effettuati L'assessore Salta Martini Vicepresidente Salta Martini Ha detto che questi dati non sono veri A noi risultano che siano invece certe queste informazioni Per cui ho detto all'assessore di verificarle in modo certo E se risultasse vero, come abbiamo notizia Che queste sedute sono venute meno Se è disponibile di mettersi È una provocazione chiaramente questa Ma per dire che nell'ospedale di Fano All'ospedale Santa Croce C'è una forte diminuzione di attività C'è stata una forte diminuzione di attività Soprattutto nel periodo estivo Che mai era accaduta negli anni precedenti Un conto sono le ferie di agosto Un conto sono le sedute che sono state eliminate Dal 3 giugno fino al 30 settembre Dopodiché c'è un altro elemento Che sono anche le notevoli dimissioni Che ci sono state nel nostro territorio Di medici anestesisti che se ne sono andati E non sono stati ancora sostituiti Se non a fronte di sei dimissioni Un anestesista è stato sostituito Ed altri tre specializzanti Ma che ovviamente non hanno l'autonomia Di poter essere presenti in sala operatoria Questo significa che la sanità Nel nostro territorio in caos Aumentano le liste di attesa La gente rinuncia a curarsi E di fatto soltanto le persone Che se lo possono permettere Possono accedere alla sanità privata E la dimostrazione lo è anche La serie di dimissioni dei direttori Che c'è stata in questi ultimi mesi Quindi chiediamo di avere definitivamente L'atto aziendale che dia certezza All'ospedale non solo Santa Croce Ma anche agli ospedali del nostro territorio Agli ospedali delle Marche Per dare dimostrazione di fatto Di quello che si vuole fare Quindi atto aziendale Specialistiche Numeri Personale Posti letto Questo è l'obiettivo Però ecco Sulla questione delle sale operatorie Credo di avere tutti gli elementi Per poter dire Che la riduzione c'è stata In modo considerevole E la risposta non si è fatta attendere Non c'è stata alcuna chiusura Delle sale operatorie Ma una rimodulazione del periodo estivo Per consentire al personale Di usufruire del periodo di ferie Le sale operatorie hanno continuato L'attività sia per gli interventi programmati Ma anche per le urgenze Arriva a dirlo in una nota È stato oggi il direttore generale Dell'AST di Pesaro e Urbino Che ha fornito i numeri Degli interventi eseguiti Nel periodo giugno-settembre Le sale operatorie nel 2023 Hanno effettuato 35 sedute operatorie Settimanali più 17 mensili Un numero inferiore rispetto al 2024 Inoltre nel periodo giugno-luglio E settembre sono state sospese Tre sedute a settimana E tre sedute al mese Mentre per il mese di agosto Si registra la stessa riduzione Degli anni precedenti Invece in merito ai primari Carelli tiene a precisare Che non c'è stata alcuna dimissione Il dottore Patriti Ha già precisato Che continuerà a lavorare Nella provincia di Pesaro Proprio per l'eccellenza Della sanità provinciale Così come la dottoressa Sara Mazzo Che resterà a lavorare Svolgendo la sua funzione di primario Della struttura del pronto soccorso di Urbino Che, come da lei richiesto Verrà potenziata con l'apertura Di cinque posti di medicina d'urgenza Dunque, allo stato attuale Non ci sono uscite Certamente, ha concluso Carelli Che vedete in queste immagini Continuare a mettere voci Non veritiere Generano nei cittadini Un sentimento di negatività Che fa perdere fiducia Nel servizio sanitario Che non rende giustizia Al lavoro E alla professionalità Dei nostri operatori E fino al 30 di settembre È possibile firmare Il referendum Sulla cittadinanza Necessitano però 500.000 firme Il 4 settembre è stato presentato Il quesito referendario Per ridurre il periodo Di residenza legale in Italia Necessario per richiedere La cittadinanza Che cosa stabilisce Cora la normativa vigente E qual è la vostra proposta? La proposta e il quesito Per il quale si battono Tutte queste associazioni Che ci stanno aiutando Sia a livello nazionale Che su Fano E anche più Europa È quella appunto Di ridurre gli anni di permanenza Da 10 a 5 Per poter richiedere Iniziare il percorso Di richiesta di cittadinanza E il resto Resta invariato Cioè tutti i requisiti Di essere cittadini Che conoscono la lingua Che sono lavoratori Qui in Italia Che hanno un lavoro Adeguatamente retribuito Che non sono andati A delinquere Tutto resta il medesimo Però questo è una battaglia Assolutamente importante Una battaglia che noi reputiamo Non tanto morale Quanto giusta ed etica Perché se qualcuno Viene nel nostro paese Con il suo lavoro Con i suoi contributi Contribuisce a far crescere Il paese È giusto che ne faccia parte Nei doveri E nei diritti Ed è giusto Che questi si estendano Anche ai figli minori Perché ricordiamoci Ci sono molti ragazzi Che sono da più anni In Italia Rispetto al loro paese Di nascita Ma non hanno Gli stessi diritti Questo significa Che non possono Rappresentare la nazione In cui hanno scelto Di crescere Ai giochi Olimpici Nazionali Internazionali Non possono Percorrere Dei percorsi di studio Anche a livello Internazionale Facendo comunque Sempre sede in Italia Questi sono dei diritti Che vengono negati L'altra cosa Che vogliamo ricordare È che nel 2050 Ci sarà Un grosso Problema demografico Perché arriveremo Al pareggio Tra cittadini Dal punto di vista Lavorativo Inattivi E attivi Questo significa Che per sostenere Far crescere Il nostro paese Nella spesa pubblica E anche in quelle Che sono Tutte le misure Sociali Di emergenza Abbiamo bisogno Di allargare La cittadinanza Altri grandi paesi Europei Lo hanno fatto Tutti gli altri E noi Con il nostro 4,2% Di cittadinanze Riconosciute Non siamo assolutamente I primi posti Anzi Siamo dietro Romania Svezia Paesi Bassi E tanti altri paesi Quindi è una battaglia Che deve essere Levata Da il buonismo O da L'opposizione estrenua Deve essere una battaglia Razionale Ed etica Andate a firmare Basta avere Speed Oce Andate sul sito www.referenduscittadinanza.it E potete votare Per far sì Che il quesito Referendario Passi Servono 500.000 firme Scade il 30 settembre Ci possiamo riuscire Abbiamo bisogno Dell'aiuto di tutti Per una battaglia Giusta Ed intelligente Oggi In occasione Di San Terenzio Patrono Della città di Pesaro Si è svolta La celebrazione Dei Vespri Alle 16.30 A cui è seguita La processione Per le vie Del centro cittadino Con l'urna Del santo Infine alle 18 Iniziata La solenne celebrazione Eucaristica Preseduta Da Monsignor Sandro Salvucci Durante la celebrazione Sono stati ricordati I 25esimi 50esimi E 60esimi Di ordinazione Sacerdotale E professione Religiosa Per la festività Di San Terenzio Oggi Il Museo Diocesano È rimasto Aperto Mattina E pomeriggio Con ingresso Gratuito A Pesaro Venerdì 27 settembre Si svolgerà Il concerto Della banda musicale Della guardia Di finanza L'evento In programma All'auditorium Scavolini È organizzato In occasione Dei 250 anni Di storia Del corpo Delle fiamme gialle Ce ne parla Marco Lonigro Un evento Di straordinaria Importanza musicale E culturale Arricchisce Il palinsesto Di Pesaro Capitale italiana Della cultura L'auditorium Scavolini Venerdì 27 settembre Alle 19.30 Accoglierà Il concerto Della banda musicale Del corpo Della guardia Di finanza Per un appuntamento Importante Inserito nel ricco Calendario Di iniziative Che celebrano Il 250esimo Anno di fondazione Del corpo Pesaro Terra di musica Considerate che A partire dal 2014 Pesaro Fa parte Di un network Che fa capo Direttamente All'UNESCO Per la promozione Della musica In tutto questo Noi abbiamo calato Questo evento Il 27 settembre Che riguarda La nostra banda Un complesso musicale Che formalmente È composto Da 102 elementi Nella circostanza Saranno poco più di 50 Al servizio Al comando Possiamo dire Del maestro Leonardo La Serra Ingrosso Che anovra Nel proprio curriculum Anche un passaggio Qui a Pesaro Al conservatorio Di questa città Dove ha acquisito Il diploma In direzione corale È un grande onore Presentare questo evento Ha detto il vice sindaco Di Pesaro Daniele Vimini Durante la conferenza Di presentazione Del concerto Bellissima opportunità Qui lavoriamo da sempre Con i livelli locali E regionali Della Guardia di Finanza Un anno importante Per noi Pesaro è capitale Ma è importante Per il paese E per la Guardia di Finanza 250 anni Nella prima costituzione Del corpo Tra l'altro ci avviamo Anche verso Il centenario Che sarà nel 2026 Della banda Della Guardia di Finanza Quindi Un grande evento Per cui abbiamo pensato Alla sala più grande Che avevamo A mettere a disposizione E anche più Vocate in questo momento All'auditorium Scavolini Reduce La Rossina Opera Festival E dal successo Di Sakamoto Fondata nel 1926 La banda musicale Della Guardia di Finanza È composta Da oltre 100 elementi Tutti diplomati Nei più importanti Conservatori italiani La missione È quella di promuovere E diffondere La cultura musicale Con particolare attenzione Ai valori civici E istituzionali Il concerto di venerdì Sarà presentato Dalla giornalista Silvia Sacchi Ed è un'occasione unica Per apprezzare il talento E la professionalità Dei musicisti Della Guardia di Finanza Il programma Prevede l'esecuzione Di un repertorio variegato Ideato per coinvolgere Ed emozionare Un pubblico eterogenio Celebrando anche Con la musica L'evoluzione Del corpo Della Guardia di Finanza Lungo questi 250 anni di storia Tradizione vuol dire Guardare il percorso Che abbiamo fatto finora Come siamo arrivati ad oggi Futuro Tra guardare gli obiettivi E quindi Porsi Come una polizia Economico-finanziaria Moderna Al servizio dei cittadini In un territorio Che ha delle proprie peculiarità E che noi ci sforziamo Sempre di rendere Efficiente E formante Con i nostri finanzieri Che ripeto Ogni giorno Lavorano su questi territori Al fine di salvaguardare L'ordine economico E dunque un appuntamento Da non perdere Sabato 28 settembre Alle 15.30 Lo stadio Mancini di Fano Si svolgerà la cerimonia Di intitolazione Della curva A Federico Bronco Santini Scomparso prematuramente La decisione Della giunta Nasce da una petizione Popolare Promossa Dai gruppi di tifosi Del club Forza Alma Dai Panthers E dagli Ultra Nel 2022 In segno di affetto E rispetto Per il legame Che univa Federico Alla squadra Granata Con questa dedica Hanno sottolineato Il sindaco Serfilippi E l'assessore Santorelli Vogliamo rendere omaggio Al suo spirito E mantenere vivo Il suo ricordo Per la sua famiglia E per tutti i tifosi Che hanno condiviso Con lui Momenti di gioia E sofferenza Alla cerimonia Sarà presente Anche il vescovo Monsignor Andrea Andreozzi Inoltre Il Fano Calcio Intitolerà Al compianto Sandro Mengacci Storico collaboratore Dell'Alma La sala stampa Dello stadio Mancini Ed ora ci spostiamo Al centinarola di Fano Dove è stata inaugurata La nuova sede Dell'associazione Di quartiere Negli anni Sempre con il nuovo direttivo Abbiamo pensato sempre Anche di Lavorare sempre di più Sul quartiere Siamo riusciti Tanti anni fa Ad avere una piccola stanzetta Per le nostre riunioni Incomodato d'uso Dall'amministrazione E abbiamo richiesto Fortemente All'amministrazione Di avere una sede Una sede Che potesse essere Chiamata proprio sede Per poter fare Tutte le attività Che nella nostra testa Ci sono E che non abbiamo mai Potuto fare E fortunatamente L'anno scorso Con l'amministrazione Seri Ci hanno dato Ufficialmente Questa sede Nuova Che tra l'altro È molto importante Per il quartiere Perché è stata Negli anni L'asilo E la scuola Del quartiere Quindi tantissimi Abitanti Tantissimi abitanti Del quartiere Sono stati O all'asilo O a scuola Qui Già dal mese prossimo Abbiamo in programma Dei corsi Che si svolgeranno Nella sede Quindi ci sarà Il corso di inglese E poi ci sarà Un numero di telefono Da contattare Per poi Chiedere informazioni Per saperne di più Sulla giornata E tutto Poi vogliamo fare Un corso Di imparare A giocare a burraco Perché è il gioco Che piace a tutti Ma alcuni Non sanno giocare Poi abbiamo Tante altre attività Legate al Natale Alla festa di Natale Ai laboratori creativi Di Natale Quindi abbiamo Proprio Un bel bagaglio Di programma Che già Ecco Partirà già Fra dieci giorni Anche con la ginnastica Che faremo per le persone Alla sera Insomma dai Per il momento Un bel connubio Di iniziative E nell'ambito Della settimana Africana Il sistema bibliotecario Difano Aderisce al progetto Nazionale Mamma Lingua Il mini festival Che si terrà Dal 26 settembre Al 4 ottobre Coinvolgerà La mediateca Montanari Ed altre sedi Cittadine Con letture Incontri E laboratori Per grandi E piccoli Il 26 settembre Si apre Il mini festival Mamma Lingua E apre proprio Il sipario Un appuntamento Importante Organizzato dal Cremi Dal centro Di ricerca Di mediazione Culturale Che è stato Avviato Qui a Fano Nel comune di Fano Nel 2003 Con il supporto La collaborazione La regione Marche Il Cremi È un centro Che sostiene Le famiglie Ma soprattutto Si occupa Del sostegno All'integrazione Degli studenti Stranieri Bisogna sostenere Tutti i ragazzi Stranieri Che frequentano Le nostre scuole Che oggi Sono arrivati All'11% Nell'apprendimento Della lingua italiana E si inserisce Proprio come apertura Perché la lingua È il veicolo Del pensiero È il veicolo Vero dell'integrazione Non solo scolastica Ma anche sociale E culturale Si inserisce In questo progetto Di mamma lingua Perché invece Mamma lingua Invece Quello che vuole fare È sostenere Anche la lingua Di origine Per non creare Quelle fratture Generazionali Perché ormai È superato Il concetto Che il bilinguismo Ritardava L'apprendimento La lingua italiana Assolutamente Arricchisce E apre A un pensiero Più creativo E disponibile Verso l'alto Mamma lingua O lingua madre Alcune persone Sono convinte Che il pensiero Venga prima Delle parole E che Se una Un'idea Riesca poi Ad esprimerla Ecco Purtroppo Le scienze Cognitiviste Ci dicono Esattamente Il contrario Prima vengono Le parole E poi vengono I pensieri Quindi qual è L'obiettivo Di una società Educante È quello Di fare in modo Che i nostri Giovani Conoscano le parole E questo sta diventando Un problema Perché dal punto di vista Delle abitudini Delle nuove generazioni Il bagaglio culturale Delle parole conosciute È sempre più ridotto E dobbiamo quindi Insistere sul fatto Che la nostra Lingua madre Vada approfondita Vada conosciuta Vada allargata Perché dietro Ogni singola parola C'è un mondo Di idee Questo è un progetto Che mette a confronto Culture diverse Basando però Il confronto Sulle parole Che vengono utilizzate Sulle somiglianze Sulle differenze E allora Lì possiamo davvero Arricchire Il nostro bagaglio E creare Soprattutto Uno strato comunicativo Una possibilità comunicativa Con chi vive oggi Accanto a noi Pur venendo da Altre culture Per poter Ragionare insieme Per poter comunicare Messaggi Per avere Quindi una base Di senso Per poter Convivere insieme Luciano Carallo Dell'Atletica Valbrembana E Luana Leardini Dell'ASD Dynamo Sport Hanno vinto La 28esima edizione Della Corrifano La gara Di 8,4 km Sulle colline Di Gimarra Che prevedeva Anche una camminata Amatoriale E tre prove Per gli under 18 Al fianco del CSI Che ha organizzato L'evento C'era ancora una volta Avis Fano Che ha messo in palio I trofei In memoria Di Andrea Borgo Borgoggelli In questo caso A vincere Sono stati Andrea Barcelli Ed Irene Ferroni Che sono stati I primi donatori Avis A tagliare Il traguardo A trionfare Però è stata La solidarietà Infatti Gli oltre 300 partecipanti Hanno contribuito Alla raccolta fondi In favore Della fondazione Ospedale Salesi Nello specifico Alle coterapie In oncoimatologia Pediatrica Alla quale L'organizzazione Ha deciso Di devolvere Le iscrizioni In memoria Del piccolo Federico Eugeni Scomparso Pochi giorni fa E vi ricordo Che domani A partire Dalle ore 20 Andrà in onda Una nuova puntata Di Teleracconto Gli ospiti Saranno Il sindaco Di Pian di Meleto Nicolò Pierini Che ci parlerà Della 55esima Mostra micologica Regionale Festa del fungo Di San Sisto E Fabrizio Pesare Della picoltura Gabannini Per i prodotti Di stagione Ora Le previsioni Del tempo E a seguire Uno speciale Sul concorso Musicale Internazionale Città di Fano Organizzato Dall'Associazione Arte e Musica In collaborazione Con la Fondazione Carifano E il patrocinio Del comune Dedicato Ai giovani Carinettisti Io invece Vi auguro Un buon proseguimento Di serata Sul nostro canale Arrivederci Dall'Associazione Un buon proseguimento Di serata Dall'Associazione Un buon proseguimento Dall'Associazione